Benvenuti al mio primo video commentary Ho deciso già che c'è ora di fare un po' di videogameplay Tanto per passare un po' il tempo e staccare un po' dai soliti vlog Dove avrete sempre il mio bel faccione E niente meno che Dota 2 inizieremo oggi Spero vi divertiate, adesso farò schifo a giocare perché non sono particolarmente bravo Ma almeno cercherò di farvi conoscere e capire qualcosa di più rispetto a questo gioco Che secondo me è molto valido Cominciamo Ho scelto un Mirana Un PG estremamente particolare, devo dire L'ho scoperto per caso Ma ne sono rimasto complessivamente soddisfatto Lo dico sempre Cioè nel senso È bello Ha comunque delle abilità molto interessanti E molto versatile Nonostante ovviamente una certa piccola debolezza Ma considerato che è un range della app ha senso Mentre aspettiamo l'inizio della partita avrete notato che non sono nel mio solito ambiente Infatti questa è la casa di Milano dove vado a studiare E mi sono portato dietro un po' di ricordini per quando gioco Anche la sorgente video non è ovviamente la solita Sto registrando da Mac con partizione Windows Infatti le prestazioni magari a volte caleranno qualche volta Ma credo che riuscirò a mantenere almeno con giochi di questo calibro Degli attivi standard Che altro dire? Possiamo iniziare? 13 secondi 10 secondi Per chi non lo sapesse Dota 2 è l'acronimo di Defense of the Ancients 2 Presa dalla famosa mod di Warcraft 3 Che ancora oggi spopola e che molti giocano E questo è fondamentalmente il sequel rifatto da Valve Che non è altro che lo stesso gioco Semplicemente stand alone E con una grafica migliorata E qualche dinamica comunque più carina L'obiettivo è quello di sconfiggere gli avversari E distruggere la base nemica In questo frangente è molto importante il lavoro di squadra ovviamente Come potrete spero notare presto Appena cominceranno le botte Dando l'ultimo colpo di grazia al creep si ottengono dei soldi Infatti è consigliabile sempre fare così Quindi aspettare il momento giusto Ovviamente non giocando ad altissimi livelli Le partite sono un pochetto lente effettivamente Perché su torni internazionali qui ci avremo già i primi morti Sicuramente Mentre qua andremo comunque un po' rilento Ma Ci si può fare abbastanza l'abitudine a mio parere Ovviamente abbiamo il bazar Che sarebbe il mercato con cui comprare i nostri Beniamati gioiellini E gli item con cui potenziare i nostri Eroi Adesso sono stato colpito Utilizziamo un tango Che Sprecando Consumando diciamo un albero Permette di recuperare Ora Se Le circostanze me lo permettono Vorrei usare un'abilità E cercare di fare fuori Luna Ah Bazzate La coordinazione è un po' mancata Si poteva fare effettivamente di meglio Vedrò di recuperare L'abilità Freccia Sacra Di Mirana Permette di Stunnare Quindi di rendere Inabilitato Un eroe Per un certo Quantitativo Di secondi A seconda Della distanza Da cui viene Sparato Visto che ha una traiettoria Diritta E non è Non segue Esattamente L'eroe Infatti Come avete potuto vedere Ho sbagliato Questo primo Tiro Sto per raggiungere i soldi Per prendere uno degli item Più Gettonati Sicuramente più utili Che Sono gli stivali Della velocità Molto bene Tango Una chiarezza Per recuperare Del mana Ok Ok Uh Ah cavolo Appena avrò l'occasione Richiederò Ovviamente Livellerò anche Il balzo Che è molto utile Nel caso Stessi per morire Ma per il momento Posso riuscire A farcela Da sola Uppalà 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 Qui chiamano Non capisco Immagino che lo scopriremo presto Oh porca vacca Ragazzi A sto giro Mi è andata estremamente bene Devo dire perché Sarei potuto morire In qualsiasi momento Ma Fortunatamente No Devo dire Che me la sono vista Quasi brutta Tornerò ad aiutare Il mio compagno Presto Ne approfitto Per finire Di prendere La ricetta E arrivare Con Un oggettino Anzi Un paio di oggettini In più sicuramente Molto utili L'abilità di luna Che ha un'atenar Praticamente Una specie di Shuriken Che rimbalza A volte Gli permette Di poter Colpire Eccolo Ho preso Fatto Bella lì Ottimo 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 Questo è un chiaro esempio Di Gioco di squadra E avete potuto vedere Come gliel'abbiamo messa In quel posto Ottima 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 azione Ragazzi Ma ci sentiamo Di un corriere Il corriere Permette di Non dover Per forza Tornare alla base Tutte le volte Per Prendere Gli item Ottimo Ottimo E adesso che ce l'ho Posso farmi portare Il mio anello Direttamente sul campo Di battaglia 5-0 5-0 Non male Dai Sezione L'ultimate L'ultimate Per il momento Non l'ho ancora ricercata Perché Ammetto di non Sapevo usare Particolarmente bene Quindi Quindi per il momento Oppala Oppala È bella ragazzi Ottimo Ottimo Pugge È un Pg Estremamente Fastidioso Anche Tresì Chiamato Ganker E cioè Che è adibito Soprattutto All'uccisione Degli eroi nemici Passando per le giungle O comunque I sentieri Meno Visti Come stavo dicendo L'ombra del chiaro di luna Che è l'ultimate Di Mirana Non sono ancora riuscito A capire bene Che cosa Funziona Se non a rendere invisibili Tutti i personaggi Compreso il mio eroe Ma considerato L'alto tasso Di Attacco Che ha Preferisco Richiederlo Comunque Di cercarlo Più tardi E per Concentrarmi Più sulle mie Abilità principali Ecco Vediamo un po' Di qui Si stanno dando Un sacco di mazzate Abbiamo Zeus Lion Skeleton King E Sniper Skeleton King E Sniper Insieme Anzi Skeleton King E Lion Insieme Possono effettivamente Dare un bel po' Di fastidio Perché Sono PG Facili da usare Con un alto tasso Di danno E con Magie potenti Quindi Sarebbe il caso Forse di dare Una mano là Sono arrivato Tardi Peccato Peccato Sono arrivato Tardi Niente Avrei dovuto Muovermi un po' Prima E dare un po' Di supporto Ai miei compagni Ma Non c'è problema Intanto inizia A ricercare Per I guanti Della forza Dovremo iniziare Adesso divertirci Perché avevo visto Già All'ottavo minuto Che Bene o male Si è cominciati A A prendere un po' Di mazzate Effettivamente Effettivamente La tripletta Zeus Skeleton King Lion Può essere Pericolosa Vediamo Ovviamente Per arrivare Alla base Nemica Bisogna Passare Attraverso Le Attraverso Le torri Che sono Queste Strutture Anche Di alto Danno Infatti Da solo Non posso Farlo Devo tornare Indietro Ok Ci siamo Stiamo Attenti Una Merda Scusate Il termine Aia 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 Come avete potuto Vedere Lion È Un Eroe Molto Potente Soprattutto Per le sue Abilità Di Indebolimento Stun E anche Un ultimate Che fa un Danno Spropositato Quelle poche Volte Che mi capita Di usarlo È difficile Che perda Diciamo Quindi C'è da stare Molto Attenti Qua Bottom Come potete Vedere Sta arrivando Alle spalle Eccolo Eccolo Comincia La Battaglia Forse Forse Non è andata Come speravano Ah cavolo Purtroppo Non ho Molta vita Quindi Devo stare Attento Come gioco Le mie Carte Ok Skeleton E' andato Ma Le cose Si mettono Male 13-10 Si direi Che l'ho recuperato Dobbiamo giocarcela Un po' meglio Se vogliamo Effettivamente Vincere Anche perché Adesso Stanno attaccando La torre Nostra E Non è simpatico Ok Sono arrivato Ad avere I miei Stivali Della forza Adesso Direi di cominciare Con Stile Del mantra Che è Un ottimo Item Epico Ok Ne prendiamo Un altro E attacchiamo Tutti i top A quanto pare Tra poco Ci daremo Un sacco Di botte Ottimo Bene Pesante Non nego Attenzione Questa è la Ultimate Di Tinker Danno ad Area Abbastanza Continuato Infatti È utile Ed essenziale Per Assaltare Le basi Una fascia Una fascia Di pelle Figa Cominciare È andato Ragazzi Ah È vero Skeleton King Ha la comoda Ultimate Di poter Resuscitare Attenzione Lion Attenzione Lion La tensione Alta Nell'aria Cavolo 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 Doveva andare bene Ho visto qualcuno giù Dovremmo stare attenti Era verde Quindi è uno scheletto Di chiede Eccoli Ragazzi Qui Parte Andato Ottima Ottima giocata Bella Bella Ti ho potuto vedere Come un buon gioco Di squadra Ci abbia permesso Di Colpirvi duramente Ok Stazione a Zeus Che non è comunque Ha questa ultimate Estremamente Fastidiosa Che Permette di colpire Qualsiasi FG In qualsiasi momento Ha colpito Bella Bella Finca Colpito Ottimo Mi sto limitando Molto a fare De gran assist Noto in questa partita Può capitare Alla fine Mi stare attenti Più che altro Attenzione Ok Buona giocata Mi prendo Questo E ritorno Sul campo di battaglia Pugia I hate you Semplicemente Sa usare bene Il suo presto Lancio Niente di che È un po' difficile Colpirvi per il momento Perché c'è la torre Di mezzo Che fa danno Ma appena L'avremo distrutta Credo che Potremmo pushare Mid Senza grossi problemi Tutto a due Non è certo famoso Per la gentilezza Dei player Se fate qualche errore Aspettatevi Ovviamente Delle grandi offese Stare comunque Attendo Perché non è bello Ok Quanto pare Sniper si diverte A sto giro Veramente Mi conviene Per un pelo Ma io torno In base Staremmo a vedere Adesso Arriva anche Un middle Cavolo Ci hanno distrutto Un middle Quindi ci ritroviamo Adesso in svantaggio Noi Questo non è Ovviamente Di ottimo auspicio Ma possiamo farcela È ancora Possibile Ecco Diciamo Infatti ci sono messi Ad attaccare Loro Adesso Il loro Mid Anche se Non è semplice Purtroppo Attenzione Stanno ottenendo Veramente Mid Con i denti Grazie Io C'è l'esitazione da parte nostra no decisamente stiamo iniziando a perdere colpi non sono sicuro che vinceremo ovviamente fino alla fine non potremo dirlo con certezza eh ragazzi capita sarebbe un po' un peccato finire il mio primo video commentare con una sconfitta degna di me comunque in ogni caso l'idea è di fare vedere un po' quello che è il gioco che potete avere comunque un assaggio di queste potenzialità tra l'altro è gratis la beta è chiusa ma ci sono diversi inviti e se siete interessati ad averla posso comunque passarvi a alcune delle cariche ho medicina buone non so veramente cosa farmene quindi metterò nel nella descrizione del video il mio account e non fatevi problemi tanto io accetto sempre chiunque sostiene sono praticamente connesso in ogni momento avevo fatto un'anteprima del del titolo diversi mesi fa definendolo un ottimo gioco e imparerò le cose da da loro sono cambiate ovviamente in positivo perché è veramente curato all'interessibile e cioè il divertimento anche comunque le sconfitte bene o male anche certo morire lascia la propria lascia parecchio mare in bocca però insomma è sempre molto epico il combattimento se l'ho proprio fatto fregare che peccato ce la faremo lo scopriremo molto presto adesso non abbiamo un visuale dei nostri amici ma eccole ah cavolo 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 ma cavolo veramente pugge porca troia veramente l'eufemismo a sto punto mi è costretto niente erano illusioni ho sprecato mana per nulla eccoli 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 ma vedo male ok stunnato eccoli cavolo ah merda è andata veramente stanno gancando in tre boh c'è questa è veramente un ottimo modo di giocare poco da fare sono molto bravo a questi urca ho rischiato grosso ho raggiunto però almeno la ricetta per gli ascia ne credo ne approfitterò ci sono in adesso in 4 si potrete notare che è riuscito a prendere il mantra molto a lui adesso si gioca tutto in difesa perché è difficile che finiremo a ad attaccare il dolore proprio riuscito roshan 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 npc particolare perché è situato qui in questo punto dove sto indicando col mouse ed è abbastanza potente ed è utilizzato solitamente in mid game per permettere ai giocatori di raccogliere l'egida dell'immortale e soldi quindi ho potuto vedere vediamo un po' sniper ha raccolto l'egida dell'immortale anche perché quello che sta facendo qui ha alto danno in una partita e ciò ci renderà le cose ancora più difficili di quanto già non siano anche perché il mantra mi devo tirare su 2100 ore sarà un po' difficile ho usato la mia ultimate anche se non credo di averne fatto l'utilizzo migliore e ist urca vedo una pulgia vuol dire che qualcuno no se avessero preso la gemma che permette di vedere anche le unità rintanate vuol dire che sono veramente ad alto livello ok è un andato io sto rischiando però di eh skeleton king è un pg molto molto tank si può vedere perfettamente che nonostante siano in tre anzi adesso in quattro comunque ad andare giù faccia fatica e anche la risoluzione come gioco però buona giocata sono riuscito a prenderlo un consiglio se riuscite colpite i creep a distanza lasciando perdere quelli quelli mili per i primi secondi perché sono quelli che vanno giù più facilmente ma soprattutto avete più probabilità di prendere soldi ecco ecco ottima 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 ah cavolo adesso è la nostra merce vedrò di farla kill io siamo ancora una volta troppo sparsi infatti rischiamo la morte se solamente li ingaggiamo da notare 50% di vita tolto con la ultimate solamente così ovviamente per quanto riguarda l'ipg gli altri non ok e uno è andato e uno è andato con l'argo con l'argo con l'argo con l'argo con l'argo dura molto dura il sniper è sempre più potente raggiungere 2100 la vedo veramente improbabile ormai quindi mi rimetterò ad altro credo la nostra middle in base è già molto messa male questo lascia mi lascia estremamente stupito eravamo in due ed è riuscito a fare abbastanza danno da ucciderci entrambi as you win it a bo yes tuck your tail and run you mutt ok 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 Non c'è l'unica inizia la sfida tutto per tutto perché ormai meglio di così non ci può fare so if you command it so if you command it so if you command it so if you do loop down on mine enemies for the hunt leap forward Ah, ecco dove sono E' andata Ragazzi è andata Decisamente Eh, pure è morto Questo è il classico scenario di quando si sta perdendo Non miseramente ma comunque Classico Spero Abbiate apprezzato questo primo commento a caldo in diretta Questi videogameplay che spero di poterne fare altri Nel caso piacessero E niente Avete avuto un assaggio di Dota 2 Tornerò magari con l'utilizzo di altri PC E sperando magari al prossimo giro di vincere Che fa sicuramente piacere Che fa sicuramente piacere Che fa sicuramente piacere Grazie a tutti